Si trova ricoverato in prognosi e riservata nel reparto di rianimazione pediatrica dell'ospedale Garibaldi, inesima di Catania, un bambino di tre anni che ieri a Caltagirone è caduto in una piscina prefabbricata fuoriterra in un'abitazione privata. Lo scrive il quotidiano La Sicilia di Catania, il piccolo che con molta probabilità sarebbe sfuggito al controllo dei genitori è stato tratto in salvo in extremis. Dapprima è stato soccorso dai sanitari del 118 dell'ospedale Gravina di Caltagirone, i cui medici, dopo averlo stabilizzato, hanno richiesto il trasferimento d'urgenza con l'elisoccorso nell'ospedale catanese. Il bambino è sotto osservazione, pur rimanendo in prognosi riservata, ha già dato qualche lieve segnale di miglioramento e ripresa. Sull'accaduto indagano i carabinieri della stazione di Caltagirone che, su disposizione della Procura della Repubblica, hanno posto l'aria sotto sequestro.